Ieri io sono venuto a lavorare, ho cominciato a cucinare, sto cucinando, poi ho sentito il rumore. Appena che ho sentito il rumore, quello una italiana diceva qua, lui mi è buba, è terremoto questo? Le dico che no, quello non è terremoto, si è terremoto, le dico che no. Poi che viene venuto qua a finestra, ha visto che il pullman stava a terra, le dico che buba il pullman è caduto. Le dico che è impossibile, sono venuto a guardare anche io, ho detto che sia vero, io dico vado là, vado là. Sono sentito giù, sono andato. Appena che è arrivata c'è una bambina e mamma si stia dicendo maedota, maedota, però lei non parla italiano. Non so che paese sono, però non parla italiano. Poi ho dato mano, intanto il fuoco ha cominciato a scendere di più, ho dato mano a lei, ho tirato fuori, c'è una bambina, ho tirato quello bambino fuori. Poi lei, il mamma ha cominciato a toccare per lei, così si ispirano. Poi io sono andato dietro, ho visto il spegnetore per spegnere il fuoco, anche quello è caduto sul pullman. Poi ho preso quello, sono cominciato a spegnere, però non basta quello, è arrivato subito, sono arrivati due carabinieri e la macchina. In questo momento ho sentito che si arriva la mano, non sono paura per dare la mano loro. Senti, oggi nei giornali ti chiamano eroe, tu ti senti un eroe? Per salvare le genti, sì, si dico, però la prima cosa, io ti dico gli italiani, perché loro mi hanno salvato la mia vita, sì, ho visto che io sto vivendo così, sì, mi hanno salvato la vita, sì, ho visto che qualcuno ha una difficoltà per vivere, ti dà una mano per vivere, sì, poi l'ho dato mano loro. Gli italiani ti hanno salvato, dici, perché? Prima, perché io sono venuto al gommone, mi hanno salvato, mi hanno salvato, è andato a prendere la mia a mare. Sono andato da là, appena arrivato, tutti stanno dicendo, hero buba, hero buba, anche il mio capo mi ha chiamato, mi stia salutando, grazie buba, hai fatto una cosa buona. Poi abbiamo parlato con loro, hanno mandato sul gruppo nostro, dove stiamo lavorando, poi loro mi stanno dicendo, hero, hero, le sdoche. Io ho fatto quello per correre, non è che ho fatto un'altra cosa. E l'hai fatto per il cuore? Sì, sì.